I group in groupies e credo che siamo tutti d'accordo nel dire che sono un grande gruppo un grande gruppo un grande gruppo ma con loro sono anche fratelli venere e voi sapete chi sono? mazza potrei chiedergli di tornare a lavorare per noi ma dovrebbero smettere di suonare e questo non posso permetterlo mi piacciono troppo e voi dovete accettarlo mazza lo ciao 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 ciao